ed eccoci qui in cattedrale oggi è pure giorno di festa quindi tanta roba chi l'avrebbe detto di mercoledì stava tutto sto casino che culo che ho avuto signori che culo di essermi trovato proprio oggi qua io sinceramente non la sapevo la data che c'era una manifestazione di correnza nazionale come si dice comunque questo per me è sempre stato il periodo migliore per viaggiare è inutile dirlo ma avere avuto il culo di essermi trovato in questo giorno sinceramente non era per niente programmato che poi premetto che era anche un affare a prendere i biglietti questi giorni non è che erano aumentati anzi che vi devo dire lo spirito del viaggiatore è con noi cioè ecco a me non so se si può riprendere a dire la verità vedremo